Ciao a tutti i gamers, bentorni su di nuovo in casa mia, io sono Axel Preda e come sempre voi siete su L'altra volta su Metro Last Night siamo stati inchiappettati a sangue da paver, proprio ci ha tradito, ci ha fottuto Eeeh... però abbiamo trovato il modo di scappare e voglio vedere un attimo cosa succede in questo appuntamento Andiamo a vedere Bene gamers, siamo tornati qua, Metro Last Night, stavo fuggendo dalla zona rossa E tac, finito il capitolo, vabbè Ora si che mi trovo in catacombe infestate dai ragni, dove il segretario generale Moskvin chiaramente non è il ragno capo Titolo che spetta al generale Corbott Vorrei proprio sapere che gli passa per la testa Che cosa gli ha portato Lesnischi dal D6? Che cosa distruggerà i nemici della rivoluzione? Soltanto domande e niente risposte L'unica certezza è che Pavel sa qualcosa del tetro e questo lo rende il mio bersaglio Pavel sto tornando Preparati Ti sarò vendicativo Parecchio Tu figlio di... Madonna Tu figlio di un haters Occio cio 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 Ah, la mia roba Ma che culo Il mio caschetto È il mio caschetto questo? ah no mi travesto da da rosso in teoria in teoria sono vestito da rosso oh madonna sono ultra pieno di munizioni ne ho ad aiosa di munizioni perfetto merino qua merino qua e merino qua questo qua che mi può servire perfetto c'è niente che posso prendere ok si perfetto perfetto facciamo il cambio con la mia maschera perché la mi è tutta rotta però così ci sono tutti munizioni 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 i miei coltelli munizioni o visori termici ooo eccoli qua i filtri che potevano servirmi munizioni munizioni niente munizioni ma tanto sono già bello carico di munizioni munizioni uh la madonna questa cos'è la voglio cos'è che schi ma no ma è come il mio è solo meno meno bello è bellissimo eh niente speriamo di trovare un visore termico ragazzi speriamo di trovare un visore termico perché è utilissimo cioè quando di tutto e di più tranne che un visore termico eh niente una cartina noi siamo qui sul punto rosso la banderina ah vabbè vabbè di procci no ma c'era qualcosa attenzione allora pistola silenziata ragazzi la facciamo stealth io vado a mettermi dietro a quell'angolo e la stai facendo sotto allora guarda come si comporta un vero uomo beh se sei un vero uomo perché ti tremano le mani la facciamo stealth coltelli ma dove l'allarme cosa ho fatto di male nella vita io vabbè spegniamo luci per sicurezza scusimi scusi non volevo era mia intenzione però non sembra non sembra l'armata cos'è una sorta di carro armato non sembra molto allarmati però i signori secondo me ah nient'altro ad armi lei no qua c'è questo se posso aprirla altre munizioni c'è tra poco potrò andare a fare la guerra da solo ok in teoria non c'è più nessuno allarmato in teoria in teoria dice una chiave è una casa forte e noi se non ci possono domani la prendiamo che non si sa mai qua tremano qualcosa ma questa è apribile cazzo la k ha modificato tutto questo ma la k è bello fa un culo prendo la k va bene così ragazzi mi spiace la k è sempre la k tanto per un po' credo di utilizzare solo questo un topo è già aperto chiuso 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 giuro di qua chiuso chiuso attenzione tacuino guarda il tacuino si ce l'ha aperta questa porta qua questa è chiusa questa è chiusa ok no non suonare niente questo è chiuso ok procediamo no merda no che cazzo mi torna indietro ma porco io dico come fate a chiudermi la porta vaffa culo vaffa culo porco medikit subito medikit incendiarie vai lancia incendiaria vaffa culo ok pure morto perfetto sto ricaricando aia aia fronte a fuoco cazzo 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 ok andiamo di dinamite stiamo bassi stiamo bassi lancio la granata eeeh vabbè va questo questo lancia 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 granata aia 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 fa malissimo fa malissimo fa malissimo fa malissimo perfetto bravissimo stai calmo stai calmo calmissimo devi stare calmo senti guarda questo forse non è morto ma non eri morto comunque prima ripuliamo aia aia ripuliamo tutti i cadaveri i corpi facciamo anche il riformimento attenzione facciamo appunto spararci dove sei corpo sono due ne sono due ucciso boh vabbè ok uno dei nostri a terra c'è uno uno dio cantante attenzione questo è morto ok 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 ripuliamo tutti andiamo un attimo di recuperare le cose che ho perso almeno eh qua c'è qua c'è un po' di gente sparsa un po' ovunque onestamente sarà difficile di beccare tutti quanti adesso eh questo ok pure questi perfetto dammi tutto ciò che hai tu ho già preso tu ho già preso tu ho già preso tu ho già preso tu no dammi 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 bravo 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 bambino bravo bambino tu dammi quello che hai ok dovrebbe essere tutto cerchiamo magari qualcosa di nascosto ovvero tipo queste robine ah devo fare la stelta devo farla fatemi capire un secondo cazzo di giro dovevo fare io qua adesso nel cazzo sto andando a tutto il personale attenzione eh sopra che ci siamo eh no uh salve e lei lei cosa ha una chiave no un bottone finiamo un attimo di esplorare questa zona perché sicuramente ci sta ah ecco guarda vabbè 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 andiamo qua dietro ho sentito rumori strani è questo? attordisce ma fa culo bravo bravissimo operaio de merda ok qua c'è una porta qua c'è un coso eh sì giusto 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 ricarichiamo la luce andiamo a vedere di qua eh se c'è qualcosa no la cappa non mi interessa tu sei da morto questo qua si può andare? ovviamente ok qua c'è un'altra porta dove quante porte bisogna andare vabbè mi ispira questa andiamo in questa allora no 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 cazzo allora allora ecco sono pronto allora esaminiamo la lista produzione di metanolo al separato merda la carenza di sun non gioca a brutti scherzi tutto ok mi sto giù giù no ok ho sentito che sopra comincia a fare più caldo a posto come oggi velocità del flusso minima stato del catalizzatore normale ottimo azione un attimo merda credo di permesso raffreddore brutto segno nessuno ci ha sgamato no 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 va tutto bene devo essermelo immaginato sì ok se adesso io faccio una cosa sembra continuamente che la spia mi stia arrivando a sparo così cerco di allontanarmi nell'ombra spengo tutto vengo tutto sicurezza ops ops pardon cazzo quanta gente c'è ma forse faccio prima ad ammazzare tutti mi sa adesso vedo qua sotto per incularmi da qualche parte oh questo è dio eh mi scusi ma io ragazzi gli approcci stealth non sono i miei migliori quindi io direi di mettere il coltello discutibile coltello coltello ragazzi c'è nessuno cointorno attenzione va bene e via con armi pesanti chi se ne frega del silenzio ah 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 maschera maschera porco calma sangue molto freddo e va bene va molto bene va molto bene va molto bene io io sto cercando di vivere la mia vita tranquilla si levi te la farò vedere io porco ragazzi non ci siamo capiti io voglio solo vivere basta possiamo togliercela tanto mio basta no non possiamo togliercela mi sembra allora cerchiamo di ripulire il più in fretta possibile da tutto tutto quello che c'è qua c'è anche la mano un filtro sì c'è un filtro brava gentilissimo ok questo 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 lei grazie gentile c'è la maschera che tanto dice la nuova ma un po' sto io ormai non vedo più gas no non sa che ancora zona a rischio ancora zona a rischio ok c'è questa porta qua che in teoria ci deve portare da qualche parte c'è una scaletta qua c'è una scaletta vediamo se troviamo qualcosa lì nascosto qua tipo qui c'era un tipo che non può darmi niente ahhh può dare un Kalashmikov con la visione vada per il Kalashmikov con la visione molto utile molto utile molto utile lui da qua ha attivato le cose di gas così immaginabili c'è un taccuino un taccuino interessante c'è un po' di rock'n'roll non posso buttarmi giù vabbè alla vecchia maniera alla vecchia maniera alla vecchia maniera ragazzi così iataaa ok maschera a fuoco iata nientemente no comunque non è questa la via a quanto pare ci hanno inculato quanto tempo c'è? 4 minuti al prossimo riciclo in totale per il prossimo riciclo una via d'uscita gentilmente possibilmente no eh non si può non si può qua sotto per foggia potrebbe anche per questo fuoco ah ma c'era un modo per farla stelt si passava sui cunicoli si arrivava qua ma si c'era il modo di farla stelt ragazzi non l'ho visto io si saliva qua si andava di qua di su su per giù ma io dovevo andare siamo fu il nostro super mega ma forse devo proprio andare qua in culo buttati giù che fai prima forse devo proprio andare eh si mi dice niente di andare da questo madonna aaa si 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 devo andare qua sopra devo andare qua sopra qua ce l'ho già salato però io ah questo è scherzo pardon 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 non l'ho visto io non l'ho visto io eh sta aprendo cosa adesso è andato qua dentro come io mi chiedo ma ma cosa stai facendo cioè devo entrare nelle ventole non sto capendo cosa cosa ah devo far così no ok si devo far così evidentemente si evidentemente oh c'è un pelo ragazzi però adesso sono tanti quindi o la facciamo stealth stealth o moriamo male o moriamo male male certo certo dove hai visto la merce dove ce la fosse più che altro sugli scappali in alto puoi essere più preciso preciso guarda dove ho lasciato la scala e lì troverai anche la merce il mio turno è quasi finito scassa le scatole altizia che attiva va bene va bene vado a controllare se è tutto ancora lì ok loro se ne vanno entrambi che si faccio così ma no non c'è so niente no vai tranquillo vai tranquillo vai tranquillo fai affaracci suoi per cortesia tanto che io scendo da qua non posso neanche farlo dovrai andare a controllare no no stai lì stai lì fermo io devo solo capire come si scende da qua non è cesso niente mai come scendo da qua ma come fanno a fare i giochi dove ah pardon scendi ma che fastidio qua e poi vado giù porca di quella va tutto bene prendo il tappuino prendo quello che c'è la cazzo sta arrivando e probabilmente anche vedo l'ordine cazzo cazzo c'era quasi c'era quasi c'ero c'ero quasi c'ero quasi c'ero quasi c'ero quasi c'ero quasi c'è colpa vostra madonna madonna piano b piano b piano b piano b piano b piano b cazzo um... cazzo 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 cazzoardini platform fente thought Queste armi qua Una volta preso l'M4 La K47 Ragazzi, non c'è un cazzo da fare Questo Apsetamo Munizioni perfetto Luce, visto che ormai siamo stati bellamente giugamati Ragazzi, io direi che Per questo appuntamento possiamo anche lasciarci qua Vi direi che vi invito a lasciare un bellissimo mi piace al video Se ovviamente il video vi è piaciuto Un bellissimo mi piace anche alla pagina Facebook che vi lascio in descrizione E un saluto a tutti i gamers